I giornali nazionali hanno boicottato la notizia, pensi che il Corriere della Sera ha portato la notizia alla ventesima pagina, Repubblica nemmeno, qualcosa intorno a 15-16 pagina, la stampa uguale, quindi i tre giornali più venduti non hanno portato la notizia, mentre il Fatto Quotidiano ha riportato la notizia in prima pagina. Sky TG24 ne ha parlato e come vede ne parla, secondo lei perché c'è stata questa sottovalutazione di un'inchiesta che è enorme? Ha mobilitato 3.000 carabinieri, ci sono stati 334 arresti, secondo lei c'è stata una sottovalutazione, come mai? Non lo so, bisogna chiederlo al direttore del Corriere della Sera e al direttore di Repubblica, della stampa ad esempio, non ho idea. Io fossi stato il proprietario di questi giornali mi sarei preoccupato, avrei chiesto conto, visto che si tratta di un'indagine che è uno spaccato dell'Italia, è una cosa veramente enorme. Ci sono oltre 35 aziende sequestrate, ci sono rappresentanti politici di tanti partiti in questa indagine, c'è la dimostrazione di come l'Andrangheta si è entrata e si è seduta negli apparati dello Stato e della pubblica amministrazione. Quindi mi auguro che sia stata una svista da parte di chi ha il potere di inviare o non inviare giornalisti, però sicuramente c'è un buco dal punto di vista giornalistico.